Allora, la vigilia della semifinale contro Fano, mi aspetto una gara molto tosta, nel senso che loro sono carichi, vengono da una vittoria contro Macerata, che penso fosse il loro scontro diretto nel Girono del Sud. Mi aspetto veramente una partita complicata, noi faremo il massimo per portarla a casa. Noi stiamo bene, siamo carichi, vogliamo riscattarci dalla sconfitta con Motta. E insomma, tutti felici per partecipare alla Coppa Italia, è una manifestazione molto importante e vogliamo fare del nostro meglio. Io spero che i tifosi vengano qua a Fano, anzi l'invito se vedranno questo video in anteprima, se li vedranno da casa, spero saranno collegati in tanti e faranno il tifo per noi.